Gli effetti della pandemia sulle imprese. 13.000 sono a rischio chiusura in Liguria. Nel Tigulio perdite dal 28 al 60% del fatturato. Per la ripresa serve tornare ai livelli di spesa pre-covid. Lavagna, novità per i parcheggi blu, parcometri disattivati e si paga con l'app per smartphone o con i tagliandi acquistabili in bar ed edicole. Una soluzione temporanea, spiega AMT. Il versante franato il mese scorso sulla SP49 di sopra la croce sarà monitorato con dei sensori. Il sistema consentirà di tenere aperta la strada se non al ripristino definitivo della parete rocciosa. Acceso l'impianto semaforico in prossimità del santuario di Bacezza-Chiavari, più sicurezza per l'attraversamento pedonale e per l'emissione sull'aurelia dei veicoli provenienti dalla discarica. Fermi da ottobre, ma con i costi di gestione e manutenzione da sostenere. Le piscine sperano di ripartire al più presto con l'attività di base. Secondo i gestori, i protocolli usati in estate erano sicuri. Varato dal governo il nuovo decreto anti-covid, in vigore dal 15 marzo al 6 aprile, sparisce la faccia gialla nei giorni di Pasqua, zona rossa in tutta Italia, da lunedì intanto Liguria in arancione. Scuole superiori, prorogata la didattica a distanza in Liguria, studenti preoccupati per il futuro. Da casa è più difficile apprendere ed è molto più stressante seguire le lezioni. Scuole, Chiavari pensa a due poli distinti, una incolmata per gli istituti tecnici, l'altra in piazza Nasseria per i licei. Per le nuove classi del linguistico spunta l'ipotesi provvisoria di via Trieste. Pasqua blindata, cancellate tutte le prenotazioni e chiusi gli alberghi, ma i timori ora sono anche per l'estate. Resistiamo grazie ai risparmi, dice Luca Perrone, vicepresidente degli albergatori di Lavagna. La Liguria ha perso 11.000 posti di lavoro, il 30% delle imprese artigiane rischia di chiudere. La CISL chiede la produga del blocco dei licenziamenti e una riforma degli ammortizzatori sociali. Le varianti del Covid sono più contagiosi tra i bambini e i ragazzi, ma non più pericolose. I pediatri rassicurano i genitori, fate uscire i vostri figli, dicono, ma non smettete di usare il buonsenso. Un saluto a tutti e ben ritrovati al TG Guardando la settimana, l'appuntamento in cui ripercorriamo i principali fatti che sono accaduti negli ultimi 7 giorni nel Tiguglio. In apertura parliamo dell'impatto delle restrizioni anti-Covid sull'economia. In particolare abbiamo fatto il punto con Confesercenti Tiguglio. Vediamo. L'emergenza sanitaria è ancora lontana da una conclusione. A circa un anno di distanza iniziano però a delinearsi gli effetti a lungo termine delle restrizioni sulle attività economiche. Confesercenti ha fatto un'indagine sull'impatto della pandemia in Italia da marzo 2020 a marzo 2021. In Liguria, in particolare, si stima una perdita di 4 miliardi rispetto alla spesa delle famiglie nel periodo precedente. Al momento le imprese a rischio chiusura sono 13 mila con in ballo circa 50 mila posti di lavoro. Fatta eccezione per la provincia di Imperia, ovunque ci sono state più chiusure che aperture. Nel Tiguglio i dati sono in linea con quelli di Genova, uno dei territori più colpiti in Liguria. Consideriamo che a livello di fatturato ci sono state perdite che partono dal 28 fino al 60%. Togliamo i generi alimentari, ferramenta, le farmacie che chiaramente hanno lavorato ma per tutto quanto riguarda il resto, soprattutto il settore turistico, è una cosa pazzesca questa situazione. Effetti su così larga scala sono difficili da controllare con i ristori però, secondo Confesercenti, si poteva fare meglio. Procedimenti troppo macchinosi per richiederli, specialmente all'inizio e soprattutto importi non abbastanza rilevanti per aiutare le attività. I parametri con cui sono misurati si sono rivelati poco aderenti alla realtà. O riusciamo a avere dei ristori da parte dello Stato e non chiediamo a fondo perduto, anche da doverli risarcire però in termini minimi e poi soprattutto lo spostamento delle tasse. Lo spostamento delle tasse non serve spostare i due mesi, non pensiamo che con queste aperture stop and go si possa ripartire e pagare le tasse dopo due mesi. Lì ci vuole un qualcosa di molto più concreto e sensato. Va da sé che per la ripresa sarà fondamentale l'avanzamento della campagna vaccinale. Alle imprese, soprattutto il comparto turistico, serve che le persone tornino sui livelli di spesa precedenti alla pandemia. Quel dato che oggi ci riporta indietro al 1997. Da questa settimana a Lavagna c'è un nuovo modo per pagare la sosta nei parcheggi blu. AMT, che si occupa della gestione dopo il fallimento della precedente azienda, ci ha mostrato come funziona. Una soluzione temporanea, ma che comunque proseguirà per almeno un paio di mesi. La sosta nei parcheggi blu a Lavagna torna a pagamento ma con nuove modalità. I parcometri sono disattivati e si paga o tramite l'applicazione per smartphone EasyPark o acquistando un biglietto che si trova in edicole bar convenzionati. La tariffa oraria fissa è di 1,30€. Abbiamo cercato in questi due mesi di tornare ai grattini, cosa che magari sono un po' de mode, ma con un'unica tariffa, 1,30€ all'ora, acquistabili presso le varie rivendite. 1,30€? 1,30€, grazie. Questi grattini danno appunto la possibilità di essere acquistati anche tornati in macchina, magari per altre persone che non hanno l'app sul telefono, che non vogliono scaricarla. Ci mostra come funziona l'app EasyPark? Si apre l'applicazione, ci dà il punto dove ci troviamo, questa schermata qui, se non c'è ci avviciniamo e qui deve comparire una zona, questa banda qui, arancione, rossa arancione. A questo punto vedo che la zona è attiva, io schiaccio il parcheggio, c'è questo dischetto qui, mi scelgo la durata, se passa in 10 minuti e non mi serve più, termino la sosta, la mia sosta in questo momento è terminata, ho pagato soltanto la sosta reale. La sosta è a pagamento dal lunedì al venerdì in diverse fasce orarie, 8.13 e 15.19.30 per il centro, orario continuato invece per gli stalli nei pressi dell'ospedale. Per questi ricordiamo che la sba del casello sono al momento spenti, così come i parcometri in tutta la città. Gli operatori di MT sono presenti sul territorio cittadino per aiutare l'utenza. Cerchiamo di essere presenti piano piano sul territorio e per qualsiasi informazione anche i ragazzi sono assolutamente disponibili a darle senza terrorizzare nessuno, senza essere, non vogliamo assolutamente creare allarmismi, ecco, quello sì. Andiamo adesso a Borzonasca perché come forse ricorderete c'era stata la frana sulla strada per sopra la croce che aveva bloccato appunto l'accesso alla frazione. La circolazione adesso è stata riaperta però ad alcune condizioni. Vediamo quali sono. Se il semaforo scatterà sul rosso la provinciale verrà richiusa. Sarà infatti il segnale che qualcosa sulla parete rocciosa sopra la strada si sta muovendo con seri rischi per macchine e moto. In queste ore sulla frana vengono montati dei sensori collegati all'impianto semaforico. Il sistema garantirà il transito sulla provinciale 49 in attesa che vengano completati i lavori di messa in sicurezza del versante. Per consentire il trasporto pubblico, per consentire il trasporto privato e consentire alle persone di andare a lavorare e tornare dietro. È gestita con movieri della città metropolitana e con un personale volontario messo a disposizione dal comune che tiene controllata la parete di distacco di quelle roccione famose che tutti abbiamo imparato a conoscere e a vedere. Per consentire il montaggio dei sensori la provinciale sarà aperta per il momento in tre fasce orarie del giorno dalle 6 alle 8.30, dalle 12.30 alle 15, dalle 16 alle 19. Una volta conclusa l'operazione, si spera entro la fine della settimana la strada riaprirà H24. Questo ovviamente è un primo intervento l'abbiamo fatto proprio per accelerare al massimo i tempi di apertura perché poi gli interventi messi in sicurezza dei definitivi ovviamente comporteranno dei mesi sia per la progettazione e capire esattamente cosa si potrà fare e i tempi poi di realizzazione. E questi quindi andiamo avanti, adesso abbiamo fatto tutti i rilievi quindi cerchiamo nei prossimi settimane di fare la progettazione. Nelle scorse settimane il comune aveva dovuto spostare gli anziani di una casa di riposo. La riapertura del tratto per sopra la croce dunque ha fatto tirare un sospiro di sollievo a molti. Sul tavolo resta la questione dei costi. Devo dire che la Regione ha già assicurato un finanziamento ci auguriamo che sia sufficiente per la messa in sicurezza totale se no vedremo poi in corso d'opera come cosa possiamo fare però l'importante era riuscire a partire e garantire condizioni di vita normali. E a Chiavari è stato acceso il semaforo presso il santuario di Bacezza più sicurezza adesso per l'attraversamento pedonale e per i veicoli che accedono a discarica. Vediamo. La richiesta da parte del santuario di Bacezza nostra signora dell'Olivo per i fedeli per accedere al santuario ma anche per tutti coloro che abitano e anche per la via che porta al centro di raccolta di Bacezza una zona che in questi anni ha avuto molte abitazioni per cui coloro che escono da questa via sono obbligati obbligatoriamente a svoltare verso Zuagli non verso Chiavari alcuni magari non rispettano e quindi c'erano grossi problemi di sicurezza. Finalmente risolviamo questo problema. Come funziona? Funziona sostanzialmente con una fase di tutto verde sulla via Aurelia e con delle chiamate che bloccano il traffico le chiamate sono costituite da dei sensori immersi nell'asfalto sulla via che viene dalla discarica che praticamente chi viene dalla discarica trova il semaforo rosso al momento però in cui passa su questi sensori e quindi si ferma su questi sensori viene fatta la richiesta alla centralina del verde e quindi dopo il necessario tempo di giallo viene bloccato tutto il traffico sull'Aurelia e escono in sicurezza dalla strada della discarica. Contemporaneamente potranno uscire anche i mezzi del parcheggio in piazzale Vancezza? Contemporaneamente escono anche quelli che fossero nel parcheggio e l'attraversamento pedonale che c'è praticamente tutti i veicolari sulla Aurelia diventano rossi analogamente nel parcheggio del santuario c'è un pulsante di chiamata appositamente predisposto per gli automobilisti che sono al volante che anche questo quando viene premuto abilita l'uscita in sicurezza dal parcheggio e lo stesso avviene per quanto riguarda il passaggio pedonale. Parliamo adesso di piscine e più in generale delle difficoltà che gli impianti sportivi stanno affrontando in questo periodo. Chiusi da ottobre infatti possono solamente ospitare l'attività agonistica. Vediamo. È una situazione complicata da tutti i punti di vista. Palestre e piscine sono ferme con poche eccezioni da ottobre e non sembra vedersi alla possibilità di una ripartenza. Impianti chiusi su cui però continuano a pesare i costi di gestione e manutenzione. A Lavagna ad esempio la piscina del Parco Tigullio ha dovuto interrompere tutte le attività di base e amatoriali. Sosseguono solo quelle agonistiche, il campionato maschile di pallanuota 2 e il nuoto giovanile a livello regionale. Per cercare di colmare in parte il vuoto sono stati proposti alcuni corsi di fitness all'aperto. Come vedete noi cerchiamo di utilizzare questo meraviglioso parco per fare attività anche di base, soprattutto quello che possiamo fare perché l'attività di base è permessa all'aperto. Rispettando i protocolli le piscine sono luoghi sicuri, spiega chi ci lavora. Un luogo che, anche in condizioni pre-covid, era già ampiamente disinfettato ed igienizzato. Noi ci siamo adoperati per mettere in campo tutti i protocolli emanati dallo Stato italiano e convertiti in linee guida dalla Federazione Italiana Nuoto. È stato difficile, è stato complicato e comunque abbiamo trovato un equilibrio e sicuramente abbiamo dato un servizio. Attività ferme da ottobre, dicevamo, e praticamente da marzo scorso si esclude la finestra di apertura estiva. Fondamentale quindi il sostegno economico del governo per tenere in vita queste realtà. Perché se non si parte io penso che ci saranno grossi problemi. Problemi per lo sport, perché in generale noi cerchiamo di fare il possibile, cerchiamo di alimentare e di non far morire lo sport che rappresentiamo. Vediamo adesso insieme quali sono le nuove misure contenute nel decreto vadato dal governo venerdì con quelle che sono le restrizioni che stanno in vigore dal 15 marzo, quindi dal lunedì, fino al 6 aprile. Rispetto al decreto precedente ci sono molte cose simili ma ci sono anche alcune novità. Sentiamo. Dal 3 al 5 aprile tutta Italia sarà in zona rossa. La vigilia, Pasqua e Pasquetta. Sparisce la fascia gialla che diventa in automatico arancione. Resta il bianco ma sarà solo la Sardegna restare tinta di questo colore. Sono le novità introdotte dalle misure restrittive anti-covid varate dal governo con un decreto legge e valide dal lunedì 15 marzo a martedì 6 aprile. Sono state ore di attese di confronti serrati. Questa mattina si è svolto quello tra governo e regioni. Nel primo pomeriggio si è riunito il Consiglio dei Ministri che ha varato il testo. Anche la Liguria quindi in base ad un valore dell'RT all'1,08 e non solo per l'eliminazione della fascia gialla torna in arancione. Lo farà da lunedì e sicuramente fino al 6 di aprile ma in questo arco di tempo alla luce di un quadro nazionale dell'epidemia in netto peggioramento non si escludono ulteriori riclassificazioni in peggio. Nelle regioni arancione sarà consentito in ambito comunale o nel raggio di 30 km per i piccoli comuni un solo spostamento al giorno verso una sola abitazione privata tra le 5 e le 22 e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle già conviventi oltre ai minori di 14 anni e alle persone disabili o non autosufficienti. Per le festività pasquali dunque dal 3 al 5 aprile le misure previste per la zona rossa si applicheranno su tutto il territorio nazionale. Solo in questi giorni in quanto festività sarà concesso di spostarsi all'interno della regione verso una sola abitazione privata una sola volta al giorno per un massimo di due persone cosa invece vietata nei giorni in fascia rossa fino al 6 di aprile. In rosso dal lunedì ci saranno comunque già 12 zone tra province autonome e regioni in cui l'RT è superiore all'1,25 8 le regioni invece in arancione tra le quali appunto la Liguria. Dal 15 marzo al 6 aprile poi dovranno andare in zona rossa sempre in base ad un'ordinanza del Ministero della Salute quei territori nei quali l'incidenza accumulativa settimanale dei contagi sarà superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti sulla base dei dati validati dall'ultimo monitoraggio disponibile. Nel decreto infine sono stati inseriti anche 290 milioni per i congedi parentali a partire dal 1 gennaio e quindi retroattivi saranno retribuiti al 50% per chi ha figli minori di 14 anni mentre dai 14 ai 16 anni non saranno retribuiti. Alternativa al congedo un bonus babysitter fino a 100 euro a settimana per i lavoratori autonomi i sanitari e le forze dell'ordine fino ai 16 anni dei figli viene ribadito il diritto allo smart working per i genitori. Parliamo adesso di scuole superiori che ricordiamo anche la prossima settimana saranno chiuse e gli studenti dovranno seguire le lezioni a distanza. Abbiamo parlato con alcuni di loro di quelle che sono le difficoltà di questo periodo in DAD e poi abbiamo parlato anche con il sindaco di Chiavari del nuovo progetto per i poli scolastici. se vediamo insieme i servizi. Tre mesi alla fine dell'anno scolastico e non sanno quando potranno tornare in classe. Gli studenti delle scuole superiori Liguri sono tornati alla didattica di stanza al 100% da lunedì 8 marzo per un'ordinanza del presidente di regione che ha chiuso gli istituti nonostante la Liguria fosse ancora in zona gialla. Adesso con i contagi in aumento il ritorno tra i banchi sembra lontano forse dopo Pasqua se i numeri lo permetteranno. Gli studenti sono preoccupati? Preoccupante perché non si sa bene cosa appunto cioè non ci aspettavamo un anno di pandemia un anno di chiusure quindi non so neanche cosa aspettarmi nei prossimi mesi o nei prossimi anni quindi è tutto un grande punto di domanda. Noi come studenti preferiamo ovviamente la teatrica in presenza in quanto ci permette di riuscire ad apprendere meglio rispetto ovviamente a quello online seppur comunque quello online ci permette anche di non interrompere il nostro percorso scolastico. È stressante? Sì tantissimo mi ricordo ora meno ma l'anno scorso i primi mesi avevo perennemente mal di testa a stare sette ore comunque sei ore quante sono davanti a un video monitor a sentire parlare e ritorno alla didattica di stanza perché il virus si sta diffondendo di più anche tra le fasce giovani della popolazione una scelta prudenziale quindi anche se i protocolli di sicurezza all'interno degli istituti scolastici sono dimostrati efficaci fino ad ora anche le situazioni collaterali come il trasporto scolastico e le entrate e uscite non hanno mostrato particolari criticità nei periodi di presenza al 50% all'interno delle scuole comunque non ci sono occasioni grandi occasioni di contagio diciamo che comunque ci sono dei protocolli che vengono rispettati molto anche seriamente da noi studenti ci sono altre mille situazioni in cui secondo me ci sono stati decisamente più contatti diretti poi è inevitabile che ci siano anche dei casi in cui a scuola però sicuramente non è uno dei luoghi più pericolosi a cui in cui si può stare in questo periodo in futuro si prevede un polo tecnico in colmata che raccolga tutti gli istituti tecnici geometri in caboto per circa 800 studenti e un polo invece dei licei in piazza caduti di Nasseria un polo di licei in piazza Nasseria un altro destinato agli istituti tecnici e professionali nella nuova colmata mare questa è la visione che il comune di Chiavari si è data condivisa con la città metropolitana di Genova per razionalizzare gli spazi delle scuole e confermare la sua vocazione di città degli studi se da una parte sembra essere stata messa da parte la proposta avanzata dal comune di una struttura scolastica da realizzarsi in via Trieste nell'area Exit Algas non ci sarebbero infatti le distanze sufficienti per ricavarne spazi idonei da destinare alla didattica dall'altra si sta portando avanti la strada di piazza San Giovanni Paolo II i finanziamenti da cui attingere ci sono in primis quelli del recovery plan ma occorre stabilire prima con chiarezza quali le realtà scolastiche che qui dovranno trovare casa e in base a queste modulare la progettazione valutando anche la convivenza con le altre strutture che qui sono previste tra le quali il depuratore nell'area di piazza Nasseria invece sarà disponibile già a partire dal prossimo autunno un nuovo spazio entro luglio infatti dovranno essere terminati i lavori per la riqualificazione dell'immobile di via Castagnola ex sede dell'Inps che i padri ublati hanno messo a disposizione per ospitare la futura sede della succursale del linguistico da Vigo il liceo però vi si trasferirà non prima di due anni in quanto l'immobile il prossimo anno scolastico ospiterà temporaneamente alcune classi delle succursali del Marconi del Pino e del Tecnico in memoria dei morti per la patria e l'anno successivo quelle del Caboto in quanto entrambi i plessi che così si andranno a liberare saranno oggetto di messa a norma antisismica per il linguistico dunque anche il prossimo anno e sicuramente quello successivo resta da risolvere il problema degli spazi confermati gli attuali il seminario e le due aule in casa Marchesani è tramontata l'ipotesi delle gianelline a monte qui gli spazi gestiti dal villaggio dovrebbero andare alle nuove classi del liceo del Pino si fa avanti un'altra strada l'ex sede dell'istituto privato Alfieri di Via Trieste e ho proposto per la ricerca gli ulteriori spazi gli edifici gli immobili in Via Trieste dove era la sede dell'istituto privato scolastico l'Alfieri ora in settimana ci sarà un incontro tra i tecnici della città metropolitana per vedere se questi spazi sono idoni per ospitare le future classi del linguistico i temi del lavoro adesso in particolare il settore alberghiero sta seguendo con molta apprezzione l'evoluzione dell'epidemia in particolare preoccupa diciamo le prospettive per la ripartenza Pasqua è saltata e adesso c'è anche preoccupazione per l'estate sentiamo questo 2021 vi sembra peggiore dello scorso anno? sì direi che l'anno scorso era una novità questo tipo di chiusura quest'anno la preoccupazione oltre che per Pasqua che oramai è saltata è sicuramente per la stagione estiva l'anno scorso siamo riusciti bene o male a lavorare da giugno fino a tutto settembre quest'anno non abbiamo ancora nessuna certezza come vanno le prenotazioni? le prenotazioni sono diciamo quasi azzerate chiamano dei clienti abituali però solo diciamo come informazione alcune prenotazioni per Pasqua per esempio noi le avevamo però sempre condizionate alla riapertura dei territori per l'estate vi aspettate delle disposizioni particolari per quanto riguarda l'accoglienza dei turisti stranieri e non solo? per noi sicuramente sarebbe un vantaggio avere una sorta di passaporto vaccinale una dichiarazione che gli ospiti si siano vaccinati sarebbe sicuramente una tranquillità per noi per i nostri collaboratori dipendenti e anche per gli altri ospiti voi come reggete a questa crisi? il problema è per i nostri collaboratori dipendenti finora hanno resistito con la disoccupazione con diversi sussidi anche se limitati il problema è che se dovessimo arrivare fino a giugno speriamo di no con la riapertura i prossimi mesi saranno veramente duri e voi alberghi? io personalmente come altri colleghi siamo in affitto per cui abbiamo comunque questo costo fisso che incide pesantemente e poi ci sono altri costi come diciamo i canoni di manutenzione tutti i vari abbonamenti annuali per cui si fa fronte con le risorse personali e attingendo appunto agli utili degli anni scorsi in conclusione l'indotto come sta reagendo? nella nostra zona abbiamo visto le settimane scorse il fallimento di una lavanderia per cui tutti i fornitori dagli alimentari alla carta tutti diciamo non hanno più gli ordini degli anni passati per cui è un problema molto serio sempre lavoro con i dati istat sull'occupazione il 2020 come potete immaginare è stato un anno complicato per le attività e per i lavoratori in generale ad essere penalizzati sono stati soprattutto i lavoratori dipendenti CISL chiede anche per i prossimi mesi di prorogare il blocco dei licenziamenti sentiamo 11.000 posti di lavoro in meno in Liguria tra il 2019 e il 2020 tiene l'industria mentre soffrono commercio turismo e servizi penalizzati donne e giovani è il record negativo certificato dall'ISTAT la CISL Ligure chiede di posticipare il blocco dei licenziamenti ma non solo la proroga che noi chiediamo non deve essere una sorta di rinvio dei problemi un buttare la palla in tribuna ma deve essere un momento di operatività in cui si aprono i tavoli per fare delle cose il primo compito è quello di modificare gli ammortizzatori sociali renderli più inclusivi e universali per tutti in modo che ogni lavoratore possa essere tutelato la crisi è più dura di quella del 2009 allora la ripartenza non investì su formazione sicurezza ricerca ed infrastrutture insomma non si è pensato a mettere in atto tutti quei fattori della crescita che possono creare lavoro ma anche benessere sviluppo per tutti fare tesoro degli errori per ripartire e restituire fiducia nel futuro dunque suggerisce Maestripieri ad esempio velocizzare la vaccinazione ed investire sulla sanità prospettive oggi assenti in un anno è cambiato poco o nulla ecco perché anche il dato della disoccupazione si abbassa come dato percentuale perché risente del fatto che molti non cercano neanche più il lavoro certo che la chiusura annunciata per le prossime settimane è un segnale che va purtroppo in una direzione che non aiuta ecco i ristori si chiede il segretario Maestripieri non bastano non sono bastati fino ad oggi risponde provvedimenti poco efficaci se non sono accompagnati da una semplificazione generale quando parlavo prima di riforma degli ammortizzatori sociali significa anche questo renderli universali ma anche semplificati quindi più rapidi più veloci più esigibili stesso dicasi per i stori su cui si è fatta anche un po' di confusione con questi benedetti codici a teco che poi alla fine hanno finito per discriminare alcune tipologie di lavoro che sono rimaste fuori da questi benefici passiamo adesso all'approfondimento di questa settimana che è dedicato agli effetti del covid sui bambini Maurizio Gareffa ha intervistato per noi la pediatra Laura Terenzani per sapere quali sono le accortezze da avere e eventualmente le preoccupazioni sentiamo state notando un'incidenza di casi maggiore tra la popolazione in età pediatrica? Sì in questo momento come c'è un'incidenza aumentata di coronavirus nella popolazione generale italiana vista la bassa età media dei contagi che si attesta sui 40 anni anche meno c'è una maggiore incidenza di casi in età pediatrica Che consigli dare alle famiglie? Intanto bisogna avere paura di queste nuove varianti che colpiscono i bambini Allora paura per il proprio figlio no nel senso che non sono cambiati i sintomi caratteristici del covid nel bambino ricordiamo che più o meno almeno la metà dei casi di covid pediatrico sono asintomatici che quando il bambino ha sintomi sono sintomi che molto molto difficilmente escono dalla sintomatologia di una normale infezione respiratoria anche abbastanza banale e comune quindi io direi non avere paura dei sintomi delle nuove varianti però porre attenzione a quelle che sono le misure contenitive dell'infezione quindi il famoso distanziamento sociale quindi essere molto attenti alle norme che ci sono prescritte per evitare l'aumento dei contagi quindi paura no ma non abbassare la guardia quindi tenere quelle misure di precauzione di buon senso parliamo di una popolazione quella pediatrica e adolescenziale che è un anno che è contenuta che è in casa che ha vissuto e in alcuni casi sta ancora vivendo come le superiori una chiusura delle scuole con la didattica in dad quindi una popolazione che vista la loro giovane età ha vissuto un lunghissimo periodo di distanziamento sociale e non ce la fa più diciamo così mettendomi dalla loro parte però io credo che si possa e si debba pur stando attenti a non creare l'assembramento non andare magari con i bambini in zone molto frequentate dove ci sono locali eccetera ma per esempio vista la primavera visto che la stagione andrà verso il bello ritrovare un contatto con la natura ecco allora il bambino portato nella natura dove si può nella natura e fare tanta attività fisica ecco perché in questo momento loro cominciano ad avere questo lo rileviamo in tutta Italia e gli studi ormai sono orientati in questo senso cominciano ad avere proprio problemi tipo il sovrappeso tipo problemi invece di somatizzazione problemi come cefalee nausee calo del rendimento scolastico ansie paure che a cui dobbiamo porre attenzione ci sono dei casi anche di insofferenza al di là del covid che è grave ci sono anche questi casi qui bisogna considerare anche che ci sono anche famiglie che in questo momento stanno vivendo difficoltà loro difficoltà di relazione di rapporto ecco non sempre lo stare in casa è un bene per aumentare la relazione con i figli ecco se la famiglia già ha una sofferenza sua interna può diventare un momento infernale lo stare di più essere obbligati a stare in casa allora io credo che quello che possiamo fare è essere molto attenti io parlo da da pediatra quindi da adulto verso il mondo dei bambini dei più giovani stare molto attenti a cercare una relazione positiva con loro anche a farci venire la fantasia di fare cose nuove di creare di appunto di proporre attività che si possano fare ma dove loro possano esprimersi ascoltarli tanto anche ecco se la maggior parte dei bimbi è asintomatico e frequenta però la scuola come asili e così via le famiglie devono avere degli accorgimenti particolari in casa allora in casa le solite allora le solite misure per cui proprio in questa fase se il bambino inizia a avere sintomi il genitore deve sentire il pediatra ecco noi stiamo lavorando tantissimo sulla prevenzione del contagio in questo senso che abbiamo abituato i nostri i genitori delle nostre famiglie che sono devo dire bravissimi io devo anche ringraziare le famiglie dei miei pazienti che quest'anno con tanta pazienza hanno saputo capire la situazione e sono praticamente obbligati a chiamare se il bambino ha un raffreddore se dà due colpi di tosse se ha un po' di mal di gola e con molta pazienza si sentono spesso dire ok allora sono i sintomi per cui è necessario il tampone covid e si fa il tampone covid ecco quindi non cercare di curare da solo questo tipo di sintomi segnalare i sintomi e poi accettare le conseguenze che noi medici per forza di cose chiediamo il telefono squilla sempre in queste ore il telefono è diventata la nostra croce la nostra anche la via preferenziale di contatto col mondo e devo dire che mi considero fortunata a essere medico durante questa pandemia nel 2020 e non magari nel 1950 perché devo dire che ormai la telemedicina ci aiuta tantissimo perché qualsiasi genitore io vedo anche genitori magari stranieri quindi con qualcuno la lingua lo scambio linguistico non è facilissimo però con la foto per dire della lesione sulla pelle del bambino si risolvono tantissime cose poi voglio dire i nostri studi sono aperti noi con tutte le precauzioni del caso continuiamo a visitare visitiamo tanto e si cerca di collaborare io credo che è un anno che ha insegnato essere veramente umili sinceramente a fare rete davvero io mi sento in rete con i miei genitori con i miei colleghi per la salute dei bambini ma crei dei rapporti che sono molto più solidi di quello che poteva succedere prima e con questo è tutto noi ci rivediamo la prossima settimana ma l'informazione continua sul nostro sito Teleradiopace.tv e sul nostro canale YouTube grazie a tutti Grazie a tutti